Sì, abbiamo iniziato giocando un bel primo set abbastanza lungo e dopo abbiamo fatto un secondo set perfetto e dopo abbiamo calato un po', secondo me abbiamo calato un po' di testa, abbiamo sbagliato tanto, però alla fine siamo riusciti a vincere, questa è una cosa positiva. Una cosa positiva che aiuta anche, anche se abbiamo fatto due set abbastanza male, però nel quinto abbiamo riuscito a vincere.